apriamo questa questa riunione a neo con un ospite un ospite speciale come il professor miceli da da pavia è una un'occasione per per ricordare quelle che sono stati gli impegni del dell'anno scorso per neurologi attivi in aneo in umbria ma anche su su tutto il panorama panorama nazionale il neo dei che si è svolto poche poche settimane fa è un po il dalla giornata di massimo partecipazione e per tutti per tutti per tutti i soci che si vedono sguinzagliati su tutta la su tutta su tutta la penisola ringrazio appunto il professor miceli per per la disponibilità ci stiamo perdendo una serata di sanremo giusto professore non siamo turbati dalla questa questa mancanza il focalizziamo subito sul 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 sito ufficiale perché il neo dei non è una un'attività fine fine a se stessa in cui semplicemente noi riempiamo moduli online senza delle ricadute pratiche il neo dei trova dei report eh regolari e che rappresentano un po i numeri eh i numeri e le disponibilità di dati anche da sottoporre a decisori politici aziende sanitarie manager di varia ordine e grado che servono in qualche modo a richiamare l'attenzione su questa tematica importante che è quella della neurologia d'urgenza quest'anno non abbiamo solo un report standard eh diciamo a a in lingua italiana abbiamo anche avuto una grande occasione che è quella del di vedere i dati i dati pubblicati su una su una prestigiosa su una prestigiosa rivista internazionale quindi li condividiamo con una grande una grande comunità e qui il professor miceli come primo autore deve darci conto in qualche modo della pubblicazione prego professore sì grazie francesco sei molto gentile in questa con questa presentazione io eh diciamo che devo dire che come il neo dei rappresenti sì un momento di eh di lavoro insieme no? De di di tutti i centri della maggior parte dei centri italiani eh di neurologia aperti al pronto soccorso perché non bisogna dimenticare che eh in pratica il neo dei significa eh valutare eh quanto il neurologo è impegnato in pronto soccorso come si relaziona col medico d'urgenza e eh in particolare che rapporto eh che rapporto ha diciamo eh il suo lavoro con eh l'attività più generale dell'ospedale insomma quindi eh è partito con questa idea e ed è cresciuto con la partecipazione di un numero sempre maggiore di centri di della neurologia eh italiana i centri aperti in pronto soccorso in Italia sono a duecentosessanta eh i dati di questo lavoro che fanno riferimento al al neo dei a un confronto fra il neo dei del duemiladiciannove e del duemilaventi per avere un confronto fra una situazione prepandemica e una situazione francamente pandemica come è stata quella del duemilaventi ehm in pratica abbiamo abbiamo visto diciamo un aumento da del del numero del delle unità operative coinvolte da centoventi centoventuno a centocinquantaquattro eh ci aspettiamo quest'anno di avere ancora un ulteriore sostanziale partecipazione. Il 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 dato dati sono parecchio interessanti diciamo quelli del di questo confronto volevamo vedere di fatto quanto avesse eh modificato abitudini o comunque comportamenti a livello di pronto soccorso il covid l'infezione da covid e come dire volendo partire dalla fine noi possiamo sostanzialmente dire che il eh diciamo il il neurologo in pronto soccorso e il i reparti di neurologia in effetti fanno una gran bella figura in questo lavoro perché eh in sostanza eh sì il neurologo in pronto soccorso lavora di più c'è una percentuale più elevata di eh di consulti con di consulenze in pronto soccorso ma allo stesso tempo non si ferma praticamente l'attività di ricovero anzi viene incrementata eh ciò che significa che in qualche modo sì eh la sanità italiana bene o male ha fatto fronte al adeguatamente diciamo secondo me al covid diciamo all'infezione del covid diciamo ma allo stesso tempo la neurologia diciamo si è salvata eh sulla base di questo di questo di questo a rilievo diciamo che appunto riguarda la la stragrande maggioranza diciamo dei centri dei centri italiani diciamo in in che sono aperti al pronto soccorso quindi funzionalità di un lavoro svolto in urgenza e soprattutto eh soprattutto in collaborazione ovviamente con eh con ehm gli urgentisti diciamo della della del del pronto soccorso. Il il dato il i dati sono diversi appunto come dicevo prima ehm a cominciare dal fatto che in pratica c'è una noi abbiamo raccolto mille un caso nel duemiladiciannove e novecentottantaquattro soltanto in realtà nel duemila nel duemila e venti e quindi la la numerosità del campione si è ridotta eh ma allo stesso tempo sono aumentate su questa eh sono aumentate diciamo le 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 come dicevo prima le consulenze del neurologo e si è passate dal cinque e cinque per cento a sei e sette per cento del duemila e venti eh che è una bella percentuale dimostra chiaramente che eh analogamente a quello che accade per la credo per la cardiologia ma non c'è una quantificazione di questo tipo in quell'ambito eh il neurologo rimane molto molto presente ed è molto chiamato diciamo in pronto soccorso. Eh quelle immagini che vediamo in realtà ci dicono come eh come eh viene valutato in funzione della in funzione del dei dei colori diciamo del triage quindi in funzione della severità del quadro clinico che eh viene viene diciamo eh evidenziato in pronto soccorso eh i due quadri vi fanno vedere in sostanza la differenza della figura uno fanno vedere la differenza che c'è tra la valutazione in chiaro del del dell'urgentista e la valutazione in scuro del neurologo. Eh il neurologo in realtà fa un downgrading del un downgrading della eh di solito della della severità del quadro clinico in particolar modo ovviamente dei casi neurologici che che vede eh e questo sta ad indicare un certo livello di di preoccupazione maggiore forse della dell'urgentista nel richiedere per richiedere la consulenza. Questo è abbastanza mh abbastanza verosimile considerato appunto che la specialità di neurologia è una specialità anche piuttosto complessa che eh come dire è affidata affidata diciamo deve essere affidata in buone mani preparata ovviamente a gestire questo tipo di situazione. Globalmente però eh vedete i comportamenti sono uguali nel diciannove nel venti c'è una un downgrading appunto eh che come dicevo è sostanzialmente sostanzialmente bilaterale è sostanzialmente simmetrico e significa non è significativamente diversa la eh non è significativamente diversa diciamo la 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 distribuzione. Ecco qui qui praticamente nel grafico sotto viene valutato in realtà in modo diciamo presuntuosamente da parte del neurologo quanto su quanto è appropriata la visita e soprattutto la richiesta fatta dalla dall'urgentista eh qui possiamo vedere di fatto come la i livelli di appropriatezza sono soprattutto ehm sono soprattutto evidenti nei per i per i livelli di triage più importanti quei giallo e rosso ehm a questo proposito dirò qualcosa dopo eh e che questo è anche questa distribuzione non è diversa nonostante ecco in particolare nel duemila e venti ha giudicato pertinente anche il neurologo ha giudicato pertinente anche richieste diciamo di con un codice di triage ehm più basso come vedete rispetto a all'anno prima. Eh eh la eh quella del codice colore diciamo del triage è una sorpresa è stata sempre una sorpresa nei nei precedenti neudei proprio perché in pratica si è visto un intervento maggiore più frequente del neurologo eh in quelle condizioni in cui eh non mi sarei aspettato cioè nel nelle condizioni di maggiore severità dei padri clinici che gli sono state presentate quindi nell'insieme possiamo dire che che eh diciamo c'è anche un'operatività di eh di un certo interesse di una certa come dire gravità insomma nell'approccio del neurologo. Eh il dato il dato confortante ci sono vari altri dati qual è quello della della mh il fatto che i pazienti sono più frequentemente accompagnati vengono più frequentemente portati dall'ambulanza piuttosto che non in autopresentazione però ecco le differenze non sono non sono non sono significative. Il dato forse uno dei dati interessanti è quello che vedete qui riportato quello della relativa alla distribuzione delle delle valutazioni delle ragioni per cui quindi la ragione diciamo eh sono le diagnosi fatte dal medico d'urgenza eh è classificata sulla base di di quelli che sono i nostri criteri come dire di ehm riferimento per quanto riguarda le le grosse patologie del pronto soccorso. Ecco qui si può vedere di fatto come tra duemila e venti e duemila eh da mh mila e duemila e venti ci sia ci sia una differenza sostanziale non tanto relativamente all'ictus che vuol dire il deficit neurologici focali e neanche eh per i disturbi transitori di coscienza come ad esempio oppure gli stessi eh eh attacchi schemici transitori eh ma eh c'è una differenza sostanziale ad esempio rispetto riguardo alle alle cefalee che scendono dal dodici al cinque per cento al sei punto cinque per cento eh lo stesso discorso anche se in misura minore si vede per i disturbi della sensibilità o ancora per i per i disturbi della stabilità ovvero della le manifestazioni vertiginose prevalentemente e mentre il contrario accade per le manifestazioni epilettiche dove vedete come dall'otto al sei per cento si passa al dieci virgola nove per cento quindi come dire c'è una una un adattamento eh del contesto di nelle motivazioni nei comportamenti nell'accesso al pronto soccorso che funziona sicuramente della patologia dominante e che è quella ovviamente del covid che in qualche modo valorizza diciamo quello che è è assolutamente imprescindibile che vada in pronto soccorso e e che invece come nel caso specifico delle cefalee è drasticamente ridotto perché ovviamente ci sono situazioni che eh o situazioni che possono essere trattate eh eh spesso anche solo in ambiente eh domestico. Non ci sono poi cali significativi anche di altri però sono numeri molto piccoli per cui eh in pratica non non ne facciamo menzione qui quando si fa la distribuzione delle ipotesi diagnostiche formulato dal neurologo dopo il dopo la consultazione quindi con qualche diciamo discrepanza ovviamente che è nota in letteratura ormai da da diversi potremmo dire da decenni ehm cioè praticamente il neurologo trova ovviamente nell'ambito delle sue della sua professionalità individuo patologie neurologico in modo più più puntuale e vedete come di fatto eh quello che vi dicevo prima lo lo sto qui ischemico gli attacchi ischemici transitori eccetera vengono a essere eh diciamo avere una una un relativo diciamo non a diminuzione ma a un relativo incremento come potete vedere cioè aumentano gli strochi ischemici diminiscono eh diminiscono gli gli attacchi ischemici transitori anche qui siamo davanti ovviamente ad una manifestazione di interesse dello del verso l'ospedale che è motivata dalla gravità della patologia insomma questo mi sembra abbastanza abbastanza evidente. Ehm in questa casistica di 984 pazienti ci sono anche eh trenta pazienti con con covid positivi eh in cui le manifestazioni cliniche del triage eh quindi che interessano ovviamente la neurologia che le manifestazioni cliniche del triage erano fondamentalmente di della maggiore severità quindi giallo rosse eh piuttosto che non ovviamente quelle di minore gravità ecco eh altre altre osservazioni possono eh possono essere fatte eh relativamente a quelli che noi attraverso il Neude quantifichiamo anche eh la tempistica di arrivo del pronto del neurologo in pronto soccorso eh e anche eh gli esami che vengono richiesti ovvero gli esami che vengono già trovati eh eh eseguiti eseguiti dalla dal medico d'urgenza. Ecco in questo in questo caso mi pare eh diciamo la palissiano il fatto che eh il neurologo trovi spesso trovi sempre più spesso il il l'attacca per esempio già eseguita quando viene va a fare la retta incefalogramma eh quando va a fare la visita neurologica eh mentre ovviamente non trova la la retta incefalogramma piuttosto che non altri altri altre indagini che eh sono ovviamente di minore di minore impatto e sono eh eseguiti meno frequentemente. L'attacca purtroppo è una è uno uno strumento che è legato alla in qualche modo alla alla al rischio diciamo clinico legato al caso clinico in se stesso e al rischio possibile di evoluzione ma eh ovviamente in molti casi non ha nessuna motivazione del di di non c'è nessuna ragione perché venga eseguito ehm anche se poi noi sappiamo benissimo come esistono diciamo molti casi eh nell'ambito nell'ambito della medicina legale eh in cui eh c'è una una colpa sostanziale viene attribuita una colpa sostanziale a meno negli intenti a quanti medici d'urgenza non effettuano l'attacca anche se l'attacca non sarebbe servito assolutamente a nulla. Quindi una valutazione un una come dire una ehm una collaborazione con lo specialista che in questi centri eh come potete vedere è assolutamente disponibile. Questo è è un questionario molto sintetico molto molto breve che però ci dà una una serie di risposte eh la più importante delle quali è quello che appunto vi dicevo prima cioè fondamentalmente il il la la partecipazione e la la rilevanza che ha la neurologia per l'ambito diciamo del l'ambito dell'urgenza eh e appunto c'è da ringraziare questa quantità infinita di persone non è una quantità infinita ovviamente ma devono rappresentare 254 centri sono due per centro per ogni regione eh io voglio sottolineare qui la il grande lavoro svolto dai rappresentanti regionali eh di cui eh tu sei no rappresentante regionale per per l'Umbria e tra i quali insomma ci sei anche tu il il discorso di fondo è quello di quello di sì ringraziarli ma di dire che il loro il loro lavoro è stato ovviamente apprezzato e e viene e viene considerato molto molto importante mh del rappresentante regionale come di tutti gli altri partecipanti è ovvio ma allo stesso tempo ecco la la mia idea diciamo la nostra idea già in partenza era quello di creare una una comunità di di persone che lavorano in questo ambito eh e diciamo sono tra le le comunità che sono e la comunità forse più ehm meno coinvolta diciamo in in operazione diciamo di di divulgazione scientifica su di alto di alto livello anche se si potrebbe fare molto di più da questo punto di vista su con studi mirati e più specifici anche tra gruppi ma che deve eh secondo secondo me essere intanto una creatura che eh respira insieme cioè questo questi questi centri neurologici sparsi in tutta la penisola eh non devono rimanere isolati perché eh non non lo meritano e lavorano tantissimo e fanno un gran lavoro per per tutti i pazienti che che hanno l'occasione di vedere questo è eh il mio il mio pensiero credo che sia eh un pensiero condiviso da tutte le persone che hanno partecipato altrimenti non si capisce per quale motivo si si dovrebbe perdere tutto il tempo che non c'è di fatto perché il lavoro di routine è molto importante ma eh e ci trascina verso altre cose nella alla veriferia come si dice dell'impero no ci ci porta a fare un lavoro più di manovalanza piuttosto che non di 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 qualità di 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 questo è un lavoro di qualità ma è un lavoro eh il lavoro di 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 speculazione scientifica di ricerca che si può fare solo sui casi clinici e che significa farlo su in modo più in modo più impegnativo ma insomma sicuramente è una una un aspetto che sarebbe carino poter realizzare con con una vera e propria rete di di strutture che in qualche modo eh si si danno la mano e lavorano praticamente di di concerto insomma questo Neodei è è è stato ed è un esperimento eh mi avviso riuscito perché ci fa vedere alcune peculiarità e come dicevi prima ci permette di eh sostenere le ragioni della della associazione di neurologia d'urgenza italiana nel eh che ha già realizzato una serie di altri di altri prodotti come dire eh importanti che abbiamo già come dire eh portato anche a livello ministeriale purtroppo penalizzati un po' dalla dalla pandemia eh non abbiamo potuto avere un seguito da questo punto di vista ma eh le cose eh devono devono ehm avere eh l'avranno appena questo questo discorso del del covid sarà sarà finito insomma speriamo che le cose vadano meglio dal punto di vista anche della partecipazione ai tavoli che contano eh dell'urgenza e delle malattie diciamo tempo dipendenti. Continuiamo a a lavorare tutti tutti insieme tutti queste tutti questi ospedali tutti questi colleghi con culture tradizioni diverse clinical lines le più eterogene per cui uno sforzo di tutta la comunità neurologica neurologica di Italia anche la struttura organizzativa dietro la segreteria di Aneo con tutto quel lavoro di credenziali password validazione di di dati non va non non va sottovalutato il il in conclusione ecco la mia curiosità che dobbiamo un po' svelare ecco di fatto il Neodei si svolge si svolge sempre di di lunedì e quindi la domanda che mi facevo io è perché abbiamo scelto questo giorno c'è un razionale dietro è un una cosa del tutto casuale eh beh è casuale ovviamente la scelta di un giorno diverso da quello che avevamo scelto originariamente che era il mercoledì e abbiamo scoperto che il mercoledì in realtà nei vari centri italiani eh che hanno contribuito in modo suppletivo fornendoci informazioni di tutta la settimana dei loro casi e dei casi del pronto soccorso diciamo quindi degli accessi in pronto soccorso anche a prescindere dalla specialità il mercoledì si vedeva il numero inferiore di casi in assoluto quindi rispetto a tutti gli altri giorni della settimana quindi eh vabbè l'idea poteva essere lunedì o martedì sicuramente non la domenica ehm sicuramente non il sabato insomma alla fine è emerso il lunedì e lunedì in effetti con la partenza della mezzanotte di eh dalla mezzanotte di eh di domenica e conclusione diciamo alla mezzanotte di lunedì eh in pratica riusciamo con con come dire la partecipazione di eh dei tre turnisti insomma in qualche modo comunque di 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 delle tre figure di neurologo qualche volta due ovviamente che eh che coprono questi turni riusciamo il turno riusciamo in effetti a ehm ad avere un un numero congruo di dati appunto come vi stavo dicendo prima c'è più c'è più traffico c'è più traffico c'è più traffico sì eh però nello stesso tempo c'è anche più tra anche più lavoro per il neurologo che deve occuparsi anche di queste cose qui eh quindi tutto sommato insomma è stata una buona scelta e stiamo continuando anche anche nel duemila e venti e ventuno abbiamo fatto eh abbiamo fatto il alla fine di novembre anche lì lunedì eh con eh anche lì i dati sono in fase di di analisi per per un report che ehm vedremo dove ci porterà ma eh il senso è quello il senso poi in generale è quello di di avere uno strumento che ovviamente non vogliamo ampliare in tutte le maniere come dicevo e Neude si può anche specializzare in alcune cose purché gruppi di lavoro lo facciano diciamo in modo sulla base di un progetto ben definito e che tutti quanti condividiamo insomma ecco questa era un po' un po' l'idea e quindi beh insomma non so mi auguro che le cose vadano in questo modo perché bisogna bisogna trovare un posto a questa comunità eh estremamente eh eterogene appunto per distribuzione eh ambienti di lavoro amministrazione di vario tipo più o meno insomma eh ad assetto variabile che che però viene per così dire un po' diciamo è un po' passiva per molti versi insomma nell'ambito del dei congressi di altre cose proprio perché non può e spesso non è motivata eh a a preparare eh il l'abstratto piuttosto che non il lavoro scientifico in senso stretto. Troveremo i giusti i giusti incentivi. In chiusura ritorniamo sul sul paginone sul paginone Aneu qui c'è pieno di news FAD Summer School eh tanto materiale il il pdf anche si trova in rete il pdf delle delle linee guida che è comunque uno strumento di consultazione molto molto importante. Saranno occasioni magari per per discuterne più avanti. Eh grazie grazie professore per la chiacchierata e eh restiamo restiamo tutti stiamo tutti a disposizione per le future iniziative. Grazie 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 a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti